Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Amen. O Dio, Uno e Trino, io umilmente ti supplico per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, di tutti gli Angeli e i Santi, di darci la grande grazia di vincere le forze delle tenebre in Italia e nel mondo intero, in memoria dei meriti della passione di nostro Signore Gesù Cristo, del Suo preziosissimo sangue versato per noi, delle Sue sante piaghe, della Sua agonia sulla croce e di tutte le sofferenze patite durante la passione e per tutta la vita terrena del nostro Signore e Redentore. Noi ti supplichiamo, Signore Gesù Cristo, di inviare i Tuoi Santi Angeli per abbattere le forze del male all'inferno, nella Genna, affinché in Italia e nel mondo intero venga il Regno di Dio e la grazia di Dio sia riservata in tutti i cuori, così l'Italia e tutte le nazioni del mondo si riempiano della Tua pace. O nostra Signore Regina, ti supplichiamo con tutto il cuore di inviare i Tuoi Santi Angeli per abbattere le forze all'inferno, nella Genna e tutti gli spiriti maligni che devono cadere. San Michele Arcangelo, Principe della Milizia Celeste, Tu hai ricevuto dal Signore la missione di realizzare quest'opera, affinché la grazia di Dio sia perennemente con noi. Guida l'armata celeste, affinché le forze delle tenebre cadano definitivamente all'inferno nella Genna. Usa tutte le Tue forze per sconfiggere Lucifero e i Suoi angeli decaduti che si ribellarono contro la volontà di Dio e adesso vogliono distruggere le anime degli uomini. Sii vitorioso perché Tu hai il potere e l'autorità e reclama per noi la grazia della pace e dell'amore di Dio, in modo che possiamo sempre seguire nostro Signore verso la regalità del Cielo. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.